Buonasera signora, ha una pronotazione? Sì, sì, sì. Il suo nome per favore? Giovanna Vaccaro. Giovanna Vaccaro. Giovanna Vaccaro. Un momento. Un momento. Vaccaro con doppia C. Sì, è V, A, doppia C, A, R, O. Sì, è V, A, doppia C, A, R, O. Sì, è V, A, doppia C, A, R, O. Un documento per favore? Un documento per favore? Un documento per favore? Sì, ecco la mia carta d'identità. Sì, ecco la mia carta d'identità. Sì, ecco la mia carta d'identità. ecco la sua chiave e la camera numero 203. Ecco la sua chiave e la camera numero 203. Grazie. Ah signora, la sua firma per favore. Ah signora, la sua firma per favore. Ah signora, la sua firma per favore. Agia mi scusi. Agia mi scusi.